Antonella bentornata ciao grazie grazie di avermi fatto ripartecipare e così un'altra serata insieme a voi che da me piace stare sul palcoscenico. Lei è la nostra quota revival dell'edizione scorsa che ha partecipato è stata qui con noi anche questa sera come è andata? Come ti sei trovata? Mi diverto sempre quindi vengo sempre volentieri lo sapete. Ho più a rispetto all'anno scorso un po' meno emozionata rispetto agli altri. In un certo senso si come ripetente. Sei a casa un po' come Leslie e Luca che questa sera ci hanno deliziato anche loro. Vabbè loro sono fantastici quindi sempre piacere risentire tutti. Mi ha fatto piacere rivederti qui ritrovarti qui con la stessa energia con la stessa grinta. Ma si la manteniamo sempre è una cosa che fa parte di me ogni tanto mi piace. È fondamentale. I talenti vanno usati se no come si dice muoiono no? Vanno coltivati. Vanno coltivati infatti. Allora spero di rivederti presto. Anch'io e grazie ancora e alla prossima. Grazie a te. Ciao 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 ciao.